E che hai il gioco in italiano? Chat? Chat? Forse il mio modulo lingua nel mio cervello non funziona più Ma io sto leggendo cose in inglese Cioè se voi mi dite che questa è italiana Che 30 seconds anti-minions spawn è italiano, vi credo eh Però sono molto confuso Il mio cervello è tipo O sto traducendo allo stesso istante Ah ok, bene, ho appena spiegato il suo cleanse a caso Yikes Eh, ecco C'è andata veramente di lusso Anche minions have spawned è totalmente italiano Ma 100% bro, trust Basta Che Cazzo gli ha capito Illusionarsi Almeno abbiamo pareggiato il conto Sì sì, dobbiamo stare indietro perché ora pigliano a livello 2 Però almeno abbiamo pareggiato il conto di trade un minimo Fuck non va... Veina era fuori EXP per 1 Eh, giustamente non avendo il flash lá, non corre rischi Ci sta Merda Qua l'ho trollato io Non pensavo mi facessero abbastanza danno per uccidermi Bella Così abbiamo la wave congelata Va bene così Va bene così Le persone importanti hanno preso le kill Che è una buona cosa Fuck Eh È letteralmente esploso Pensavo Stesse arrivando un pochino più in fretta Sto sottovalutando enormemente il danno che hanno Enormemente No no è che No 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 Shut down Madden Soprano 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 Takes the bait And sins Sto still Sì Siamo un po' esagerato e drammatico da parte di Cassadin No, andiamo per quello Sì Vai, se vuoi uscire puoi uscire No, non l'abbandono qua sotto torre Allora, o ti sposti o vai fuori Deciditi Scusami Scusami Porco boia Vabbè, no Ci one-shotano letteralmente Ci one-shotano Se proprio ci affacciamo Eh No, non è un problema in Usia È un problema in Nautilus Che letteralmente ci zona a morte Ok 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 È un Asoraka top Come dovrei giocare per top? oh Ma che devo fare? Bella Lapo, perché in sottofondo musiche di Friday Night Pumpkin? No, giocare il 2v2 è proprio qualcosa che non possiamo permetterci. Raga, ha ucciso in 1v1 più ora? Ma vi... Ma Cassadin? Cassadin è andato così deep per uccidere Viktor? Eh, io sto pensando cosa prendere, perché se prendo questo purtroppo... No, vorremmo se resti era position. Mica, hanno vision ovunque comunque. Ehm... No, 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 no! Ehm... Oh cazzo Eh c'è un po' troppa gente C'è un po' troppa gente Vabbè ho preso una kill per Cassidy CV con il Thunder Sky ha un crit garantito E quindi è pesantina a gestire Devo assorbire un po' di Fs qua Allora vediamo se qua ha piatto di visione No No Ok Mi aspettavo il salto in avanti da parte sua Proprio zero Ok Sai che Cassidy si è appena vigilato Ok Sì Madonna santa Questo Nautilus è veramente un dito in culo Veramente un dito in culo Insane No Oh merda Eh il problema è lei Va fermata Eh Lasciamo un po' qui Almeno a questo modo prendo la Yomo appena torno in base Oh Ah A meno che non hai una merra ghiacciante Ma vuol dire che hai perso veramente tanto Su una soglia di elo specifica Tipo diamond 4, platino 4, smeraldo 4 Cioè devi essere messo ma Palle perché c'è sempre vision qua poi Ma quanti cazzo Ormai siamo in un game in cui siamo A fatto che Soraka abbia vinto la Ninkraid La cosa che mi lascia più interdetto Eh minchia Sì 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 Subito 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 Ciao Ma è vero che lo stunno fa più danno su niente Sì ho preso questo semplicemente perché volevo sopravvivere Continuano a barstarmi Ero un po' stanco di essere barstato a merda A quanto riguardano le ultime X partite Non è proprio così È un pochino Cioè è molto complicato Ma non tiene conto soltanto delle ultime partite Ero un pochino Ma che? Che cazzo Con che velocità mi ha raggiunto Cioè da qua What the fuck Ok Cioè avevo la E Avevo Ho fatto W E Comunque mi riusciva a raggiungermi Con quei proiettivi Holy shit Sarà che è top Sto vincendo Pensate Pensate Riot se mettesse un Puoi avere soltanto un effetto energizzato insieme Avresti risolto tutti i problemi degli oggetti energizzati Visto che chiaramente non vogliono mettere dei valori sani Bevi stronzo che ti hanno detto di bere Oggi con primi lec È un po' difficile lec Visto che non c'è il lec oggi Cazzo che è ancora vivo È insane Cazzo che cazzo che cazzo Cazzo che cazzo che cazzo Cazzo che cazzo via da qua non vengono a romperci il cazzo perché lui si è diventato ma non è che si è diventato fiera già forte prima con questa build è una build che ti puoi permettere quando gli avversari sono molto fragili e infatti a me e Vayne ci scopavano il culo ma a ripetizione proprio ah perché non mi cambia la scena? ok non giocherei mai con la cacca di Pyke e infatti c'è anche Gianna nella mia champion pool dei supporti visto che attualmente è brain dead come champion spamma la w con la cometa dell'ultimo ciao guarda